nel cuore delle ande per catturare i raggi cosmici. L'editoriale, di Roberto Petronzio. A due anni dall'ultimo numero del notiziario INFN ritorna la rivista dell'Istituto, con un nuovo nome, Asimmetrie, una nuova veste grafica e una maggiore attenzione a un lettore esterno all'ambiente, al quale comunicare le sfide scientifiche nei campi della fisica subnucleare, astroparticellare e nucleare. Raccontare le imprese scientifiche richiede da sempre un equilibrio tra il linguaggio da utilizzare, comprensibile anche ai non addetti, e i contenuti concettuali che non vanno persi nel desiderio di renderli accessibili. La nuova rivista intende sottolineare sia l'avanzamento della conoscenza, sia lo sforzo tecnologico che ne è alla base, segnalando, ove ciò accada, le potenziali ricadute di interesse applicativo e industriale. La arricchiranno varie rubriche, dal calendario dei convegni scientifici a breve termine, alle recensioni di libri a carattere scientifico, all'informazione delle iniziative in tema di comunicazione intraprese dal lente. Infine, perché Asimmetrie? Il mondo che ci circonda non è simmetrico a prima vista, ma la sua interpretazione da sempre è stata guidata dalla ricerca di simmetrie che, stabilendo relazioni tra quantità fisiche, riducano la complessità delle leggi a cui esse obbediscono. Non tutte le simmetrie, però, si manifestano come tali, assumendo a volte forme nascoste in apparenti asimmetrie. Di alcune ne intuiamo la simmetria che le governa, per altre ci limitiamo a constatarne l'esistenza. Da esse traiamo spesso lo stimolo a spingere la ricerca e le nostre teorie delle forze fondamentali verso generalizzazioni o rivoluzioni future. Tra simmetrie e asimmetrie la natura ci guida alla sua comprensione. Caccia al plasma di Quarche Gluoni, di Eugenio Nappi. Al via al Cern il montaggio dell'esperimento Alice, ci porterà indietro nel tempo fino al Big Bang. Pochi milionesimi di secondo dopo il Big Bang il nostro universo era una bolla dalla temperatura di molte migliaia di miliardi di gradi e dalla densità quasi infinita. In quelle condizioni inimmaginabili, esisteva uno stato della materia chiamato plasma di Quarche Gluoni, nel quale questi costituenti elementari erano liberi di muoversi su distanze relativamente grandi. Poche frazioni di secondo dopo, la temperatura dell'universo era già scesa abbastanza da cambiare radicalmente la situazione. Quarche Gluoni si trovarono prigionieri, confinati all'interno di particelle complesse come i protoni e i neutroni che costituirono poi i nuclei degli atomi. Oggi i fisici cercano di ricreare quel primordiale e misterioso plasma, e proprio per fornirci indizi risolutivi su di esso è stato concepito Alice, uno degli esperimenti in costruzione presso l'acceleratore LHC al CERN di Ginevra. Il suo nome viene dall'acronimo di A Large Ion Collider Experiment ma, non casualmente, richiama anche la famosa fanciulla della fiaba di Lewis Carroll, guidata dalla sola curiosità in viaggi fantastici, come quello che ci porterebbe all'origine del nostro cosmo. L'acceleratore LHC entrerà in funzione nel 2007, ma al CERN i lavori per il suo allestimento, e per quello degli esperimenti a esso connessi, sono in pieno fermento. E si tratta di una fase importantissima. Infatti, anche se per i grandi risultati scientifici occorrerà attendere il funzionamento degli strumenti, l'ideazione e la realizzazione di questi ultimi impongono di affrontare e vincere grandi sfide tecnologiche. È in questi momenti che vengono concepite soluzioni originali le quali spesso, dopo tempi più o meno lunghi, trovano impensate applicazioni anche in campi lontanissimi dalla fisica. Per quel che riguarda l'esperimento Alice, tutto è ormai pronto per dare il via al suo montaggio. Si tratterà di mettere insieme diversi pezzi incastrandoli uno dentro l'altro, un po' come le bamboline di varie dimensioni che formano una matrioska russa. Solo che nel nostro caso la matrioska avrà dimensioni straordinarie, un'altezza complessiva di 15 metri e una lunghezza di 25 metri. Il gigantesco apparato verrà montato in una caverna connessa con LHC e posta alle pendici dei monti dell'Iura, 45 metri sotto il livello stradale. I lavori di ristrutturazione della caverna, che in passato aveva ospitato altri esperimenti connessi con l'acceleratore LEP, che ha preceduto LHC, sono appena terminati. E dunque tutto è pronto per accogliere la monumentale e ipertecnologica fanciulla metallica. Ma come farà a guidarci alla scoperta del plasma di quark e gluoni? Innanzitutto, occorre sottolineare che nell'universo attuale, ormai raffreddato ed espanso, non esiste il plasma di quark e gluoni, in cui quark e gluoni si muovevano liberamente. La materia che ci circonda, infatti, è formata da atomi, i quali sono composti da elettroni in orbita intorno a un nucleo. Quest'ultimo è composto da neutroni e protoni, a loro volta costituiti da quark. I quark sono letteralmente, incollati, fra loro grazie alla cosiddetta forza forte, la quale dal punto di vista fisico è descritta come un incessante scambio fra i quark di particelle neutre prive di massa, i gluoni, dal termine inglese glu, cioè colla. È praticamente impossibile privare un neutrone o un protone di un suo quark, perché questa operazione richiederebbe un'energia sostanzialmente infinita. Infatti, i gluoni agiscono come elastici che legano un quark a un altro con una forza che è tanto più elevata quanto maggiore è la distanza che separa questi ultimi. Tuttavia, è possibile ipotizzare che i quark raggiungano una sorta di libertà in condizioni estremamente particolari, ad esempio al centro delle stelle di neutroni, dove in qualche chilometro è concentrata una massa paragonabile a quella del Sole e dunque vi è una densità enorme. Alice, e l'acceleratore LHC, permetteranno di realizzare quello che probabilmente è il più grandioso sogno della moderna fisica nucleare, ricreare in laboratorio uno stato di materia tanto densa e calda da essere simile a quella presente poco dopo il Big Bang. Nell'acceleratore LHC si potranno fare avvenire urti frontali fra nuclei pesanti di piombo accelerati sino a raggiungere energie molto elevate rispetto alla loro massa. In queste condizioni, molti dei 208 protoni e neutroni che compongono i nuclei si sovrapporranno tra loro. Si creerà così una minuscola sfera dalla temperatura rovente, circa 2000 miliardi di gradi, oltre 100.000 volte quella del nucleo del Sole. A causa dell'elevata compressione che subiscono i protoni e neutroni durante l'urto, la sfera, avrà anche una densità mai raggiunta finora in nessun esperimento di fisica delle alte energie. In queste particolarissime condizioni i quarche e i gluoni, non più confinati all'interno di protoni e neutroni, si muoveranno liberamente. La sfera di fuoco avrà una vita effimera. Durerà appena un miliardesimo di secondo, il tempo che la luce impiega ad attraversare un nucleo atomico. Quindi si espanderà rapidamente e si raffredderà producendo diverse decine di migliaia di particelle che saranno poi rivelate dagli apparati dell'esperimento Alice. Ciò che i fisici osserveranno, dunque, saranno in realtà anomalie nella produzione e nel comportamento delle particelle rispetto a quanto si verifica nelle collisioni che avvengono a energie più basse. Si avrà insomma una immagine indiretta del plasma di quarche e gluoni, un po' come l'immagine di una radiografia restituisce le caratteristiche del corpo umano basandosi sul diverso assorbimento dei raggi X da parte di ossa e di tessuti molli. Come avviene ormai da tempo nei grandi esperimenti di fisica nucleare e subnucleare, Alice è anche un esempio di grande cooperazione internazionale. Nel suo progetto e nella sua costruzione sono coinvolti circa mille scienziati e ingegneri provenienti da 80 istituti di ricerca di 30 nazioni, e di essi oltre 160 sono italiani afferenti alle sezioni INFN di Bari, Bologna, Catania, Padova, Roma, Torino e Trieste, ai laboratori nazionali di Legnaro e ai gruppi collegati di Alessandria, Salerno e Udine. Alice è costruita per rivelare le diverse decine di migliaia di particelle, prodotte nelle collisioni frontali con una frequenza di circa 100 volte al secondo e questo ambizioso obiettivo ha richiesto significativi miglioramenti nella tecnica di rivelazione delle particelle. Uno sforzo di inventiva che ha portato alla creazione di tecnologie all'avanguardia, alcune delle quali hanno già risvegliato l'interesse per applicazioni in settori come quello spaziale e medico. È il caso di una strategia messa a punto per ottenere sensori al silicio delle dimensioni di pochi millesimi di millimetro, concepiti in collaborazione con fisici, ingegneri e tecnici impegnati nell'allestimento di un altro esperimento che sarà operativo presso LHC, chiamato LHCB. Questa tecnica, e la relativa elettronica, ha trovato utilizzo nella mammografia digitale e in dispositivi PET di nuova concezione in via di sviluppo. Appenext 10.000 miliardi di operazioni al secondo È la capacità di calcolo raggiunta dal nuovo supercomputer Appenext Ci aiuterà a capire la natura dei quark e dell'antimateria E molto altro Di Michele Catanzaro Negli ultimi anni è diventato sempre più chiaro il ruolo fondamentale per la scienza di microprocessori e schede di memoria La ragione sta nella natura stessa della conoscenza scientifica Infatti, se anche un giorno riuscissimo a comprendere tutte le leggi fondamentali della natura, saremmo solo all'inizio del nostro compito Perché quel giorno, se mai arriverà, non sapremmo ancora predire l'evoluzione di fenomeni ad alta complessità come quelli citati sopra Per capirli non basta conoscere le equazioni che descrivono gli atomi, le molecole, gli organismi e i pianeti Bisogna anche saperne calcolare le conseguenze nel caso di situazioni molto complicate Nelle quali riuscire a fare i conti, può essere un obiettivo irraggiungibile Per fortuna, però, non dobbiamo aspettare una teoria finale per porci questi problemi Molti campi della scienza sono già abbastanza maturi per affrontarli E soprattutto, gli scienziati hanno a disposizione un'alternativa al gettare la spugna di fronte a calcoli impossibili da fare con carta e penna Dove la matematica non basta o è troppo complicata Il computer viene in nostro soccorso Spiega Nicola Cabibbo, autore di scoperte fondamentali nella fisica teorica degli ultimi decenni e promotore del progetto APE Array Processor Experiment, che potrebbe essere tradotto come esperimento di batterie di processori Si tratta di un supercalcolatore tutto italiano sviluppato per la ricerca in fisica delle particelle E costituito da centinaia di unità di calcolo collegate in un reticolo e operanti in parallelo È dell'inizio del 2005 la notizia che la macchina, con un ulteriore balzo di potenza, è giunta alla sua quarta generazione, APE Next È un passo avanti importante, perché in molti casi il confine delle conoscenze scientifiche moderne è dato proprio dalla potenza dei computer esistenti Chiarisce Guido Martinelli, professore presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, che si è avvalso di APE nelle sue ricerche Il computer si utilizza soprattutto in quei casi nei quali si sa di cosa sono fatti e quali forze subiscono gli oggetti dello studio Ma è assolutamente proibitivo prevederne il comportamento attraverso dei calcoli matematici Questo, però, non vuol dire rinunciare a pensare Anzi, il calcolatore serve proprio a verificare fino a che punto sono validi i modelli teorici elaborati dalla creatività dei ricercatori È un po' come se gli scienziati ricostruissero nella macchina la natura come se la immaginano E osservassero, poi, se questa natura virtuale si comporta come quella vera Un controllo che si fa verificando se i dati delle simulazioni coincidono con quelli degli esperimenti Proprio in questo consiste il lavoro degli scienziati che hanno sviluppato APE Sono fisici che si occupano di particelle elementari Ovvero dei costituenti fondamentali e indivisibili di tutti gli oggetti della natura In particolare il loro interesse si concentra sui quark I mattoni di cui sono fatti i protoni e i neutroni Che a loro volta formano il nucleo degli atomi La questione può sembrare piuttosto esoterica Ma, come sintetizza Martinelli, nella sua soluzione si nasconde la spiegazione degli stati legati di quark che ci circondano Come ad esempio protoni e neutroni In realtà le leggi delle particelle elementari sono ben note agli scienziati Il problema è che i quark hanno fra di loro un'interazione molto forte Chiarisce Cabibbo e questo complica enormemente i calcoli Per prevedere il comportamento di altre particelle Come i neutrini Si può trascurare l'effetto della loro debole interazione Si commetterà un piccolo errore Ma in cambio si ricaveranno delle formule molto più semplici Con i quark invece non si può fare Analoghe difficoltà si incontrano studiando l'altro affascinante problema affrontato da APE Ovvero, la simmetria fra materia e antimateria Quest'ultima è presente nell'universo e può essere riprodotta in laboratorio È costituita da particelle identiche a quelle della materia, ma di carica opposta Ad esempio, l'antiparticella dell'elettrone, il positrone, ha la sua stessa massa, ma la carica è positiva La domanda è Visto che materia e antimateria sono così simili Perché è solo la prima che costituisce tutto quello che vediamo e tocchiamo La questione è ancora aperta ma Grazie ad APE È stata simulata una violazione della simmetria fra materia e antimateria Ovvero un fenomeno fisico nel quale si evince una differenza di comportamento fra le due Che potrebbe essere un indizio per risolvere il problema E, quel che più conta, il fenomeno simulato ha trovato riscontro nei dati sperimentali Questo e gli altri successi sono il risultato della particolare struttura del calcolatore APE è una macchina, dedicata, come si dice in gergo I personal computer, spiega infatti Kabibbo sono concepiti per svolgere una gran quantità di operazioni diverse I chip di APE, invece, sono ottimizzati per risolvere i particolari problemi fisici che ci interessano E quindi sono molto più efficienti Il segreto di APE, però, sta nella sua architettura In primo luogo in una macchina APE ci sono moltissime, unità di calcolo, impacchettate, in singoli chip E quindi è come se si disponesse di un gran numero di sistemi equivalenti a un personal computer che operano in parallelo Cioè in maniera coordinata e contemporanea Le unità di calcolo sono distribuite in modo da formare i nodi di una fitta rete di processori interconnessi Concretamente, se si osserva un APE si vedranno tante schede inserite in grossi armadi Collegate da un fitto in trico di cavi Se si potesse distendere questa rete nello spazio, però, si vedrebbe un reticolo cubico tridimensionale La stessa struttura del cristallo di sale da cucina Ai vertici delle celle cubiche stanno quelli che si possono considerare l'equivalente delle CPU Central Processing Unit Dei comuni personal computer Ovvero i nodi di calcolo Nel caso di APE, il nodo di calcolo è realizzato dalla memoria locale Dall'elettronica di interconnessione con altri nodi e dai chip di calcolo veri e propri Questo schema tridimensionale di collegamenti consente di realizzare computer ad, alto parallelismo In volumi di spazio ridotto Dove il compito da svolgere viene ripartito fra le varie unità di calcolo Ognuna delle quali esegue lo stesso programma contemporaneamente a tutte le altre Ma sul particolare insieme di dati che gli è affidato In questo modo la potenza dei diversi processori viene sommata e cresce con il numero di processori stessi Dunque il sistema può essere ampliato a piacimento È grazie a questo sistema che APE riesce a compiere miliardi di operazioni al secondo In particolare APE Next raggiunge 10 Teraflops, Floating Point Operations per secondo Cioè 10.000 miliardi di operazioni al secondo Anche l'architettura, poi, è pensata appositamente per studiare i quark Il problema del loro comportamento può essere assimilato a quello della dinamica di un fluido Il quale può essere analizzato convenientemente dividendolo, appunto, in cubetti e studiando separatamente il comportamento di ogni cella Questa struttura, ottimizzata per un particolare problema di fisica delle particelle Può essere utilizzata per tutti gli altri problemi che sono in qualche misura riconducibili a quel modello Infatti, esemplari di APE sono stati usati per la meteorologia e per la dinamica dei fluidi I servizi tecnici dello Stato se ne avvalgono per prevedere il tempo nella regione del mare Adriatico e l'acqua alta a Venezia A Maranello, grazie ad APE, è stata migliorata l'aerodinamica della Ferrari E l'Enea, ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, se ne ha valso per simulare la chimica delle molecole complesse Dal 1984, anno di nascita del primo APE, a oggi, il numero di operazioni al secondo compiute dal calcolatore è passato da 1 a 10.000 miliardi E ogni passo avanti è stato accompagnato da nuovi successi Dunque non ci resta che aspettare le sorprese che ci riserverà l'utilizzo intensivo di APE Next Riquadro. Vita da apista Lavorare con APE è un'esperienza speciale Basta vedere come se la cavano, anche fuori dall'ambiente della ricerca, gli apisti, come loro stessi amano definirsi Nel 1997 Giuseppe Bastianello, un laureando in fisica di Roma, decide insieme ad altri studenti di sfruttare le competenze acquisite presso il gruppo APE per avviare un'impresa L'anno successivo si uniscono a loro Simone Cabasino e Pier Stanislao Paolucci, due ricercatori dell'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in congedo temporaneo Nasce così Nergal, una società che sviluppa alta tecnologia con applicazioni che vanno dalle telecomunicazioni, al commercio elettronico, ai media Cabasino spiega così il successo dell'azienda, che oggi conta un centinaio fra dipendenti e collaboratori Più delle competenze tecnologiche, conta il metodo sperimentale che si acquisisce facendo ricerca E infatti Nergal mantiene rapporti di collaborazione con diverse università ed è riconosciuta come laboratorio nazionale dallo Stato italiano Ma l'onda lunga di APE non si esaurisce qui Dopo l'esperienza di Nergal, Paolucci ha creato i Pitec, un centro di ricerca situato a Roma dove fisici e ingegneri stanno sviluppando un progetto basato sulla tecnologia di APE con applicazioni nel campo dell'audio e delle telecomunicazioni Questo lavoro è interamente finanziato da una società di semiconduttori americana, afferma Paolucci Ma la nostra esperienza dimostra che la ricerca di base, che è e deve restare finanziata dallo Stato, non manca mai, anche a distanza di anni, di dare i suoi frutti industriali E i frutti spesso sono i più inattesi Come nel caso di Gianmarco Todesco, che ha sviluppato per digital video il software, Toons, utilizzato per animare cartoni come Balto o Anastasia Toons non usa il software di APE Ma l'esperienza di ricerca per me è stata impagabile E mi ha insegnato a risolvere creativamente i problemi informatici E, a quanto pare, è proprio la creatività a far volare APE così in alto Riquadro I calcolatori più potenti del mondo Di Piero Vicini Oggi esistono sostanzialmente due classi di supercomputer La prima è quella delle, macchine dedicate Mentre la seconda è quella dei, computer cluster Alla prima classe appartengono tutti quei sistemi che, come APE, sono basati su architettura di sistema, proprietaria I quali non prevedono l'utilizzo di prodotti commerciali, come personal computer o loro parti Ma sono realizzati attraverso l'impiego di tecnologie pensate ad hoc I cluster computer sono invece un'evoluzione piuttosto recente del concetto di Rete di calcolatori Resa possibile grazie all'impressionante potenza di calcolo raggiunta dai singoli personal computer E dalla incredibile capacità di trasmissione dati offerta dalle moderne tecnologie di rete In pratica, un cluster computer di ultima generazione è un sistema realizzato da centinaia O migliaia o addirittura decine di migliaia Di personal computer commerciali interconnessi da un sistema di rete anch'essa commerciale Ciascuna delle due soluzioni offre i propri vantaggi Ad esempio un cluster computer richiede un investimento iniziale in ricerca notevolmente ridotto Ma d'altro canto i supercomputer dedicati permettono di massimizzare alcuni parametri come l'efficienza computazionale Il rapporto tra potenza di picco e numero reale di operazioni effettuabili E il rapporto flops per watt Quante operazioni sono possibili per ogni watt di consumo Attualmente il primato di computer più potente del mondo spetta ad un supercomputer Dedicato, denominato, Blue Gene L. Nato per effettuare simulazioni del comportamento delle proteine e dei fenomeni ambientali È frutto di uno sforzo congiunto IBM e Dipartimento dell'Energia americano e Grazie ai 65.000 processori della versione attuale Raggiunge la soglia dei 185 teraflops Corrispondenti a 185.000 miliardi di operazioni per secondo Il primo esempio di cluster computer si trova invece al terzo posto nell'attuale classifica dei computer più potenti al mondo È il Columbia, della NASA, capace di 60 teraflops di potenza di calcolo Costruito tramite un'aggregazione di 10.000 processori commerciali della Intel Itanium, interconnessi con una rete commerciale di ultima generazione È stato realizzato per il supporto alle missioni spaziali dell'agenzia A poca distanza segue, l'Earth Simulator di Yokohama In Giappone, questo supercomputer dedicato, che raggiunge i 40 teraflops, è stato concepito per simulare, con una risoluzione spaziale di un chilometro, fenomeni come i disastri ambientali, i terremoti o il surriscaldamento del pianeta Nel prossimo futuro si prevede che le richieste di potenza di calcolo cresceranno in maniera sensibile, nell'ambito ad esempio della ricerca in bioinformatica E, di conseguenza, l'impressionante sviluppo della tecnologia continuerà a sorprenderci con nuovi sistemi capaci di superare qualsiasi record appena stabilito Giappone ed USA prevedono di realizzare in cinque anni supercomputer dedicati sempre più potenti e anche l'Infan, forte della sua tradizione nel supercalcolo, parteciperà alla sfida È in cantiere infatti un nuovo progetto caratterizzato da un'ampia collaborazione industria-ricerca, che porterà entro 2010 alla realizzazione di macchine capaci di compiere milioni di miliardi di operazioni al secondo La foto Presso il CERN di Ginevra è in costruzione il Large Hadron Collider che, con i suoi 27 chilometri di circonferenza, sarà il più grande acceleratore di particelle al mondo Al suo interno verranno accelerati lungo un percorso circolare due fasci di protoni che procederanno in direzioni opposte e saranno poi fatti scontrare frontalmente I ricercatori studieranno cosa avviene in questi urti, con l'obiettivo principale di osservare una particella chiamata bosone di Higgs, prevista dai calcoli teorici ma fino ad oggi mai osservata direttamente Osservare il bosone di Higgs è cruciale per la fisica moderna, perché la teoria prevede che l'esistenza di questa particella spieghi la massa di tutte le altre Per far sì che le particelle seguano la giusta traiettoria all'interno dell'acceleratore LHC occorrono ben 1200 magneti superconduttori Ciascuno di essi crea un intenso campo magnetico che ha una particolare geometria spaziale detta, di dipolo, e ha lo scopo di incurvare il fascio di particelle lungo il percorso Dal punto di vista tecnico, i dipoli magnetici superconduttori di LHC, in foto, sono potenti elettromagneti di forma cilindrica con un diametro di un metro e una lunghezza di 15, i cui avvolgimenti sono realizzati con cavi superconduttori Alla realizzazione di questi sofisticati magneti, in particolare dei loro prototipi e del primo di essi hanno partecipato in modo significativo l'INF nell'industria italiana, Ansaldo, Europa Metalli, e, Zanon e altre aziende Nel cuore delle Ande per catturare i raggi cosmici Il nuovo occhio tecnologico scruterà il cielo per catturare la pioggia di particelle cosmiche che inonda incessantemente il nostro pianeta Lo scopo? Fare luce sulla loro misteriosa origine, di Giorgio Mattie A ridosso della Cordigliera delle Ande, nel cuore della Pampa Argentina e a 1400 metri di altezza, si trova un'ampia regione pianeggiante In questa sorta di deserto d'alta quota, un tempo al centro di quell'impero Inca che aveva elevato gli astri al rango di dei un nuovo occhio supertecnologico è puntato verso il cielo Si tratta dell'osservatorio Auger, un colosso che occupa una superficie di 3000 km2 ed è frutto di una collaborazione fra 15 paesi tra cui l'Italia rappresentata dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Il suo obiettivo è studiare i raggi cosmici, chiamati anche radiazione cosmica, una pioggia di particelle cariche dotate di un'energia straordinaria Si tratta di una pioggia regolare che giunge dallo spazio o forse dovremmo dire di una grandine continua e costante nel tempo che non si cura della posizione del Sole o della Luna e neppure della Via Lattea Si abbatte sul nostro pianeta fin dai tempi in cui esso era ancora una palla rovente, senza traccia di vite e butterato da vulcani in eruzione è una grandine che tutto circonda La sua intensità è tale che ogni superficie di un metro quadrato riceve circa 100 particelle al secondo Nonostante la loro scoperta risalga a circa un secolo fa, ci sono ancora molti misteri da scoprire sull'origine e sul comportamento dei raggi cosmici Proprio per svelare questi misteri è stato costruito Auger Ufficialmente inaugurato nel corso di una cerimonia tenutasi dal 10 al 12 novembre 2005 A quanto sappiamo oggi, il meccanismo più probabile che permetterebbe la generazione di raggi cosmici formati da particelle cariche è quello che fu proposto da Enrico Fermi, secondo il quale essi verrebbero prodotti nell'esplosione di Super 9 Si tratta di eventi cosmici straordinari e piuttosto rari che avvengono al termine della vita di alcune stelle di grandi dimensioni Le quali per così dire muoiono in una spettacolare esplosione proiettando nello spazio enormi quantità di materia, dell'ordine di diverse masse solari L'onda d'urto prodotta dall'esplosione è in grado di imprimere a particelle cariche accelerazioni sorprendenti Proprio queste particelle accelerate tempesterebbero il nostro pianeta sotto forma di raggi cosmici Per il momento riteniamo che i raggi cosmici che osserviamo sulla superficie della Terra provengano da esplosioni di supernove avvenute nella Via Lattea Cioè nella nostra galassia Solo quelli più energetici presumibilmente proverrebbero da galassie lontane Negli anni 30 del secolo scorso furono compiuti grandi progressi nella comprensione della natura e del comportamento dei raggi cosmici In particolare furono scoperti grandi sciami di particelle che si propagano nell'atmosfera Essi hanno origine quando le particelle di alta energia provenienti dal cosmo urtano le molecole dell'atmosfera producendo altre particelle di alta energia denominate, raggi cosmici secondari Questi a loro volta si propagano e interagiscono di nuovo producendo altri raggi cosmici seguendo uno straordinario processo di moltiplicazione che dà luogo a un vero e proprio sciame di particelle Durante lo sviluppo dello sciame le nuove particelle prodotte hanno energie progressivamente inferiori rispetto a quelle di partenza Ed è una vera fortuna perché se fossimo ininterrottamente colpiti da particelle dotate di una energia paragonabile a quella in possesso dei raggi cosmici prima di essere schermati dall'atmosfera I danni al nostro organismo sarebbero irreparabili Gli sciami si estinguono quando vengono prodotte particelle dotate di energia così bassa da non essere più in grado di produrre nuovi raggi cosmici secondari Il numero complessivo di particelle dello sciame può essere misurato ed è proporzionale all'energia del raggio cosmico primario cioè della particella proveniente dallo spazio che dà origine allo sciame stesso Più essa è dotata di alta energia e maggiore sarà il numero delle particelle, figlie, prodotte dalla sua interazione con l'atmosfera Si è osservato che fra i raggi cosmici che colpiscono la Terra ve ne sono alcuni in possesso di una energia enorme dell'ordine di 10 alla 20 elettron volt, si tratta di una cifra che può essere scritta come uno seguito da 20 zeri ed è circa pari a quella che avrebbe una palla da tennis tirata da un campione, ma concentrata in una singola particella Il numero di questi ultimi però è molto piccolo Ogni secolo ne giungerebbe sulla Terra appena uno per chilometro quadrato Eppure proprio questi rarissimi eventi di altissima energia sono al centro delle ricerche per le quali è stato costruito Auger il quale mira a raccoglierne un numero abbastanza elevato da gettare finalmente luce sulla loro misteriosa natura Tecnicamente Auger può essere definito un rivelatore ibrido Ciò significa che combina in un singolo esperimento le due tecniche fondamentali usate per studiare gli sciami di raggi cosmici rivelatori di superficie distribuiti sul suolo e telescopi per misurare la luce di fluorescenza In particolare, Auger è costituito da 1600 rivelatori posti a una distanza di 1500 metri l'uno dall'altro e autonomi in quanto dotati di batterie e pannelli solari Quando uno sciame di particelle cosmiche che si sviluppa nell'atmosfera raggiunge il suolo un certo numero di questi rivelatori entra in azione, registrando il passaggio delle particelle e fornendo un segnale elettronico che viene trasmesso via radio al laboratorio centrale dell'osservatorio Auger Contemporaneamente, nelle ore notturne, un sistema di telescopi a fluorescenza, sempre parte di Auger cattura la debolissima luce emessa dalle molecole di azoto dell'atmosfera quando vengono eccitate dal passaggio delle particelle che formano lo sciame Si tratta di luce al limite del visibile, nell'ultravioletto vicino, che tuttavia il telescopio può captare permettendo di seguire lo sviluppo dello sciame nell'atmosfera così come possiamo fare ad occhio nudo quando, guardando il cielo, abbiamo la fortuna di osservare una meteora che produce una traccia luminosa nell'atmosfera Combinando le due informazioni dai rivelatori di superficie e dai telescopi di fluorescenza i fisici dell'esperimento Auger saranno in grado di misurare energia e direzione di provenienza dei raggi cosmici primari e potremo così entrare in possesso di nuove e preziose informazioni su aspetti sconosciuti della natura del nostro universo Riquadro, gli occhi di Argo, di Benedetto de Torre Piazzoli Si chiama Argo e si trova in Tibet, nel laboratorio d'alta quota di Yang Ba Jing a 4300 metri di altezza Il suo obiettivo è identificare le sorgenti dei raggi cosmici dotati di energie sino a circa un milione di miliardi di elettron volt 10 elevato alla 15 elettron volt ed è frutto di una collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFN, e l'Accademia Cinese delle Scienze, CAS Secondo la teoria oggi più accreditata, i raggi cosmici dotati di energie che giungono fino a circa 10 milioni di miliardi di elettron volt sono generati principalmente all'interno di supernove Essi vengono accelerati in gigantesche onde d'urto e iniettati nello spazio ove risiedono per milioni di anni subendo continue deviazioni da parte dei campi magnetici galattici Sono proprio queste continue deviazioni a mascherarne la direzione di provenienza Impedendoci di risalire al loro punto di origine Eppure, vi è un modo per identificarne la misteriosa sorgente Infatti questi raggi cosmici, prima di lasciare lo spazio che circonda il punto dove vengono prodotti possono interagire con il gas circostante generando raggi gamma, fotoni, di altissima energia Questi ultimi viaggiano in linea retta verso di noi senza essere deviati fino a che non raggiungono l'atmosfera terrestre Urtando con le molecole di quest'ultima i raggi gamma generano sciami di particelle per molti versi simili a quelli prodotti da altre particelle che compongono la radiazione cosmica Argo è stato concepito proprio per analizzare questi sciami Grazie a rivelatori sviluppati in Italia per esperimenti al CERN di Ginevra e poi modificati e ottimizzati per operare in alta quota e rivelare sciami di particelle con altissima densità sino a 100.000 elettroni o più per metro quadro concentrati in una finestra temporale molto piccola pari a 10 miliardesimi di secondo I rivelatori di Argo, posti l'uno accanto all'altro senza soluzione di continuità occupano una superficie grande quanto un campo di calcio Circa 18.500 elementi sensibili rappresentano gli occhi di Argo e prelevano il segnale generato nei rivelatori dalle particelle dello sciame consentendo di ricostruire le caratteristiche del raggio cosmico primario che l'ha generato in particolare energia e direzione L'apparato è ora in fase di presa dati tuttavia occorrerà attendere il 2006 perché sia del tutto completato e funzioni a pieno regime Alle soglie del 2010 si prevede che Argo avrà raccolto una notevole mole di informazioni fornendo risposte a un ampio panorama di questioni scientifiche riguardanti la radiazione cosmica primaria e le sue misteriose sorgenti Riquadro Identikit dei raggi che vengono dallo spazio L'incessante pioggia di raggi cosmici che bombarda il nostro pianeta è costituita da particelle cariche di diverso tipo ma soprattutto da protoni e da nuclei carichi positivamente Dal cosmo, in realtà, arrivano anche particelle prive di carica come i fotoni, che compongono la luce, e i neutrini Questi ultimi sono talmente numerosi che in un secondo attraverso la punta di un dito ne passano ben 60 miliardi La loro abbondanza nell'universo è inferiore solo a quella dei fotoni I neutrini, però, nonostante siano abbondantissimi, sono anche estremamente difficili da studiare perché interagiscono molto debolmente con le altre particelle e dunque quasi non lasciano traccia del loro passaggio Il loro studio può essere possibile solo in ambienti estremamente riparati dal rumore di fondo, prodotto dal mare di particelle cariche che tempesta il nostro pianeta come, ad esempio, in laboratori sotterranei o sottomarini Riquadro Un fantoccio per i viaggi intercontinentali Qui sulla Terra, protetti da uno strato di atmosfera spesso circa 20 chilometri possiamo sentirci relativamente al sicuro dal nocivo effetto dei raggi cosmici sul nostro organismo Ma se ci si trova su un aereo che vola ad alta quota le cose sono diverse È molto importante valutare gli eventuali rischi per la salute dei passeggeri e soprattutto degli equipaggi i quali necessariamente accumulano un gran numero di ore di volo A questo scopo, presso la sezione di Torino dell'Infrn è stato messo a punto uno speciale fantoccio di nome Jimmy È realizzato utilizzando materiali che simulano la composizione dei tessuti umani e possiede cavità localizzate in corrispondenza degli organi maggiormente radiosensibili All'interno di queste ultime sono alloggiati dosimetri in grado di misurare l'energia rilasciata in quei punti in particolare dai neutroni che compongono la radiazione cosmica Il fantoccio ha viaggiato da giugno 2001 a marzo 2002 compiendo 8 voli su rotte intercontinentali a bordo di aerei di linea all'Italia Grazie a Jimmy si è potuto verificare che la percentuale di dose su rotte polari risulta essere circa il doppio rispetto a quella presente a bordo durante rotte equatoriali poiché, a latitudini differenti, il campo magnetico terrestre ha un diverso effetto schermante sulla radiazione Inoltre, i dati raccolti hanno permesso di stimare che il personale di volo impegnato abitualmente in viaggi intercontinentali riceve mediamente nell'arco di un anno una dose di radiazione cosmica pari circa una volta e mezza il fondo di radioattività naturale terrestre, una quantità apparentemente non eccessiva anche se occorre tener presente che non esiste un valore soglia al di sotto del quale sia possibile parlare di assenza di rischi per la salute Riquadro Tutte le trappole tese ai raggi cosmici I raggi cosmici sono per loro natura molto vari Non solo le particelle che li compongono possono essere di molti tipi diversi ma anche l'energia in loro possesso varia moltissimo Quella dei raggi cosmici di origine galattica ed extragalattica va dai 10 alla 8 elettronvolt a 10 alla 20 elettronvolt Queste caratteristiche, unite al fatto che le particelle di più alta energia sono molto più rare di quelle dotate di energia più bassa fanno sì che per studiare i raggi cosmici occorra mettere a punto una ampia varietà di strategie e di apparati sperimentali Per catturare le misteriose particelle venute dallo spazio l'INFUN dispone di strumenti molto diversi che vanno dagli apparati su satelliti in orbita ai laboratori nascosti nelle viscere delle montagne Alcuni esperimenti sono terminati da tempo altri sono in corso o saranno operativi nei prossimi anni Ecco un breve quadro degli esperimenti attualmente in attività o in preparazione Apparati sulla Stazione Spaziale Internazionale AMS, in allestimento Apparati su satellite Pamela, in attesa di lancio Agile e Glast, entrambi in allestimento Apparati su palloni stratosferici CRIM, in attività sui ghiacci antartici Apparati in alta quota Argo, Magic e Auger in attività rispettivamente in Tibet sull'isola di La Palma nell'arcipelago delle Canarie e in Argentina Apparati nelle viscere delle montagne LVD, in attività presso i laboratori nazionali del Gran Sasso Apparati sottomarini Antares, in preparazione in Francia a largo delle coste di Tolone e Nemo, in fase di allestimento è previsto che venga installato a largo delle coste di Catania I microscopi della fisica Un viaggio alla scoperta dell'invisibile La sfida di raccontare la fisica nucleare e subnucleare Di Barbara Gallavotti Raccontare la moderna fisica nucleare e subnucleare a partire dagli strumenti che hanno consentito le grandi scoperte dell'ultimo secolo Questo è l'obiettivo de I microscopi della fisica La mostra interattiva progettata e realizzata dall'INFN in occasione del 2005 Anno internazionale della fisica L'enorme crescita delle conoscenze scientifiche avvenuta nell'ultimo secolo ha posto molte discipline E in particolare la fisica Di fronte a una sfida Raccontare i propri risultati al pubblico in modo scientifico Non come una serie di fatti mirabolanti Tuttavia l'impresa è estremamente ardua Infatti, oggi solo una ristretta cerchia di esperti possono comprendere il ragionamento scientifico o i passi sperimentali che sono dietro una scoperta Di norma, divulgando la scienza si chiede silenziosamente A coloro che non sono addentro al campo di volta in volta trattato Di credere a fenomeni controintuitivi Ad esempio, l'esistenza dello spazio-tempo Il fatto che l'universo sia nato dal Big Bang o che il nostro sviluppo e gran parte della nostra esistenza siano governati da circa due metri di una molecola chiamata DNA avvolta come un minuscolo gomitoletto e nascosta in ognuna delle nostre cellule Come mai il pubblico, di fatto accetta come vere affermazioni che sembrano contraddire il senso comune? Evidentemente ciò avviene grazie alla fiducia che esiste verso chi le pronuncia I ricercatori, cioè persone immerse in un ambiente che ha in sé forti meccanismi di controllo reciproco grazie ai quali viene verificata la correttezza di ogni informazione Il solo fatto che vi sia un enorme numero di persone che segue la divulgazione scientifica sui giornali o in televisione vuol dire dunque che esiste una diffusa fiducia verso il mondo della ricerca si potrebbe addirittura obiettare che certe volte questa stessa fiducia è eccessivamente cieca e può generare, ad esempio la speranza di immediate cure contro certe malattie e di conseguenza dolorosi sentimenti di delusione Se ammettiamo che le scoperte scientifiche vengano in prevalenza accettate dal pubblico grazie a un tacito ma solido rapporto di fiducia con i ricercatori che le hanno prodotte risulta evidente che ci troviamo in un equilibrio molto pericoloso In particolari circostanze la fiducia negli scienziati può venir meno o diversi ricercatori possono avere posizioni opposte su una medesima questione per non parlare del fatto che per chi non è addentro alla specifica questione a volte non è facile neppure distinguere fra una persona impegnata in una ricerca seria e un'altra che non lo è E inoltre c'è un problema di fondo Chiedendo di, credere, in una affermazione solo per l'autorevolezza di chi la compie si domanda al pubblico di fare la cosa più antiscientifica immaginabile La scienza, infatti, per com'è stata universalmente intesa dopo Galileo Galilei è incentrata unicamente sulle evidenze sperimentali Come può la comunicazione della scienza affrontare questo problema? È evidente che non possiamo informare dettagliatamente il pubblico su come funziona ogni singolo esperimento o su quali sono i particolari teorici che sostengono ciascuna teoria A mio avviso, tuttavia, è fondamentale comunicare i meccanismi di base che governano l'avanzare della scienza Ciò vuol dire, in primo luogo, migliorare la conoscenza generale del metodo scientifico cioè del procedimento per ipotesi e verifiche sperimentali che è alla base della scienza stessa In tal modo si fornisce al pubblico uno strumento una sorta di chiave universale per capire cosa avviene nel mondo della ricerca per comprendere e accettare il margine di dubbio intrinseco in ogni suo enunciato e la mancanza di risposte definitive che ne anima il progresso Gli allestimenti interattivi, che negli ultimi decenni hanno determinato un nuovo modo di raccontare la scienza nei musei di tutto il mondo, sembrano particolarmente adatti a comunicare il metodo scientifico e spesso attraverso metafore, anche i risultati più avanzati Proprio per questa ragione, i microscopi della fisica sono stati concepiti come una mostra costituita da una serie di allestimenti interattivi i quali, soprattutto attraverso metafore e simulazioni mirano a raccontare ai visitatori come funzionano gli strumenti utilizzati dai fisici nucleari e subnucleari Manovrando diversi oggetti i visitatori compiono un viaggio nel mondo degli acceleratori e dei rivelatori di particelle scoprendo attraverso di essi, quasi in prima persona ciò che sappiamo degli atomi, e più in generale delle particelle che esistono nell'universo delle forze che le tengono insieme e degli eventi cosmici che in tempi remotissimi hanno generato tutto ciò che esiste e scoprendo anche le domande a cui gli strumenti di oggi non possono ancora dar risposta ma che saranno chiarite dalla ricerca del futuro Uno speciale spazio è dedicato alle ricadute interdisciplinari della fisica nucleare e subnucleare Perché se è vero che è il desiderio di pura conoscenza a muovere gli studi in questo campo è altrettanto vero che essi hanno più volte portato ad applicazioni in precedenza imprevedibili e poi divenute essenziali nella vita quotidiana Il pubblico ha riservato a, i microscopi della fisica, un'ottima accoglienza Oltre 40.000 visitatori nelle sei tappe visitate dall'esposizione nei primi undici mesi del 2005 La mostra è stata già richiesta per buona parte del 2006 e dallo scorso settembre ha ricevuto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica Per l'INFN la realizzazione di questa mostra è stato soprattutto un esperimento di comunicazione e i risultati sono molto incoraggianti Insieme a Varenna per l'Anno Internazionale della Fisica Di Enrico Predazzi Il 17 e 18 giugno si è svolto a Varenna, sul lago di Como, l'incontro internazionale Fisica, dalla scuola al lavoro, Physics, from school to the job market Si è trattato di un evento di ampio respiro Organizzato dalle Facoltà di Scienze delle Università di Torino e di Roma Tor Vergata Di concerto con la Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Scienze e Tecnologie e con la SIF, Società Italiana di Fisica Con la sponsorizzazione del MIUR e il supporto delle Fondazioni San Paolo e Cassa di Risparmio di Torino CRT, e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFN L'iniziativa è stata una delle più importanti fra le molte che sono state prese per celebrare degnamente il 2005 Dichiarato Anno Mondiale della Fisica dall'Assemblea Generale dell'ONU per celebrare il compimento di un secolo dal 1905 L'anno straordinario in cui Albert Einstein pubblicò, su tre argomenti, lavori destinati a divenire pietre miliari della fisica di tutti i tempi Due di essi, che aprono il XX secolo a quelle grandi rivoluzioni del pensiero, e non solo scientifico, saranno la relatività e la meccanica quantistica Mentre il terzo, il moto browniano, supera una delle grandi controversie scientifiche del XIX secolo con la dimostrazione concreta della realtà fisica dei costituenti della materia Le lezioni di apertura e di chiusura dell'incontro sono state tenute rispettivamente da Roberto Petronzio, presidente dell'INFN, e Piero Benvenuti, presidente dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica Hanno anche partecipato vari rappresentanti del mondo scientifico internazionale fra i quali il presidente della Società di Fisica Europea, membri della Commissione Europea, della Statunitense National Science Foundation, rettori e presidi di Facoltà di Scienze Italiane, membri dell'INFN, della SIFI e di altre prestigiose istituzioni italiane ed estere La folta partecipazione di studiosi europei ed americani ha permesso di mettere a confronto diversi metodi di insegnamento della fisica e differenti prospettive e realtà economiche Il titolo stesso dell'iniziativa, Fisica, dalla scuola al lavoro, dà il taglio dell'incontro che si è collocato nel solco del progetto Lauree Scientifiche che il Ministero, nella sua doppia componente Università e Istruzione Scolastica, ha messo in opera insieme a Confindustria e alla Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Scienze e Tecnologie In due giorni di discussione piena si è fatto il punto sul difficile momento della scienza, e della fisica in particolare, che in Italia e in tutto il mondo industrializzato sta preoccupando fortemente gli addetti ai lavori e i responsabili politici, a cominciare dal Presidente della Repubblica, il quale più volte ha attirato l'attenzione sul problema Importante è stato il confronto tra le misure che si stanno prendendo in Italia a questo riguardo e quelle che altri paesi hanno già attuato o stanno per attuare In particolare, l'Ocse, che sta studiando il problema sotto il doppio aspetto di cause e di rimedi, segue con grande interesse il progetto Lauree Scientifiche e a novembre 2005 ha organizzato un convegno ad Amsterdam nel quale questo progetto sarà uno dei punti in discussione Unanime il consenso sul piano internazionale, il rilancio economico e scientifico di un paese passa attraverso una politica decisa di incentivazione della ricerca scientifica Il ritardo che l'Italia deve colmare è forte e consiglierebbe di usare bene l'occasione rappresentata dal fatto che è oggi in discussione una riforma dell'università, così da non perdere uno degli ultimi treni disponibili Nello spazio per studiare i terremoti Di Roberto Battiston La missione Eneide ha portato in orbita lo scorso mese di aprile, oltre al cosmonauta Roberto Vittori, il prototipo di uno strumento innovativo sviluppato dalle sezioni INFN di Perugia, Roma Tor Vergata e Roma 3, e dai laboratori nazionali di Frascati in collaborazione con l'Istituto Mefi di Mosca Lo strumento, chiamato Lazio Sirad, impiega sottili rivelatori di particelle a base di silicio sviluppati dall'INFN per le missioni spaziali dedicate alla ricerca dell'antimateria e della materia oscura Esso è in grado di misurare con precisione la direzione dei raggi cosmici nella vicinanza del nostro pianeta Lo strumento comprende anche un magnetometro, EGLE, in grado di misurare piccole variazioni del campo magnetico terrestre L'obiettivo è studiare l'interazione tra le fasce di Van Allen, scoperte nel 1958, e fenomeni di tipo geofisico come gli eventi sismici La Terra è infatti circondata da un mare di particelle elementari, elettroni, protoni, intrappolate dal campo magnetico a distanze che variano tra centinaia e migliaia di chilometri dalla superficie dell'atmosfera Questo mare di particelle si comporta come una gigantesca antenna sensibile alle più piccole variazioni del campo magnetico Misure preliminari raccolte da ricercatori russi suggeriscono come questa antenna possa rivelare fenomeni precursori di intensi terremoti con circa 4 a 5 ore di anticipo permettendo anche la localizzazione della zona in cui avverrà l'evento tellurico L'esperimento Lazio-Sirad è il prototipo di un sensore progettato per verificare questa affascinante ipotesi È evidente l'interesse di queste ricerche in un paese come l'Italia a forte rischio sismico ma essendo l'esperimento svolto nello spazio l'interesse supera naturalmente le frontiere di un singolo paese Sebbene Lazio-Sirad sia ancora in orbita, la sua prima fase di presa dati è terminata e le informazioni finora raccolte sono state portate a terra e sono attualmente in corso di analisi Questo speciale sensore, basato su tecnologia e ricerche tipiche degli esperimenti agli acceleratori di particelle sarà in futuro installato su dei microsatelliti Lo strumento ha inoltre portato per la prima volta nello spazio dei rivelatori a scintillazioni letti da fotomoltiplicatori al silicio sensori di nuova concezione, in grado di misurare i singoli fotoni ma aventi un ingombro, peso e potenza molto minore dei tradizionali fotomoltiplicatori Lazio-Sirad è stato realizzato in meno di 5 mesi da un gruppo di giovani ricercatori e tecnici grazie alle competenze e dalle strutture disponibili presso i gruppi dell'INFN che svolgono ricerche in campo spaziale Tutta la qualifica spaziale, ad esempio, è stata realizzata a Terni, presso il laboratorio CERMS della sezione di Perugia dove sono disponibili tutti gli strumenti necessari per verificare il corretto funzionamento di strumentazione scientifica nelle condizioni ambientali estreme che si incontrano durante una missione spaziale Grazie a tutti